Vanno avanti senza sosta a Bitonto le indagini sull'omicidio dell'84enne Anna Rosa Tarantino, l'anziana passante uccisa la mattina del 30 dicembre scorso durante una sparatoria avvenuta nel centro storico cittadino. Perquisizioni a tappeto e controlli sono stati eseguiti nelle ultime ore dagli agenti della squadra mobile e dai carabinieri, ai quali è stata affidata l'attività investigativa con il coordinamento dei PM Ettore Cardinali della Direzione Distrettuale Antimafia e Marco D'Agostino. Alcuni soggetti sono stati interrogati per tutta la giornata di ieri sia al commissariato di Bitonto che alla procura di Bari in qualità di persone informate sui fatti. Tra questi anche un giovane bitontino, ascoltato per diverse ore negli uffici giudiziari baresi, non sarebbe coinvolto direttamente nell'agguato, costato la vita alla donna, ma potrebbe aver fornito agli inquirenti elementi utili a ricostruire quanto avvenuto il giorno dell'omicidio. La pista più concreta rimane quella del botte e risposta tra esponenti dei clan criminali della zona che potrebbero essere entrati in conflitto per la gestione dei traffici illeciti sul territorio, in particolare lo spaccio di stupefacenti. Un regolamento di conti, originato da una prima sparatoria, avvenuta la stessa mattina dell'agguato, quando alcuni colpi di mitra vennero esplosi contro l'abitazione di un esponente della malabita locale in via Sandro Pertini. Circa mezz'ora dopo, la risposta del clan rivale. L'obiettivo, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe stato il ventenne Giuseppe Casa di Bari con precedenti per droga, rimasto ferito nell'agguato del centro storico. Non è ancora chiaro al momento se l'84enne si sia trovata drammaticamente sulla traiettoria dei proiettili indirizzati al giovane o se quest'ultimo si sia fatto scudo della vittima durante la fuga dei sicari. Sui risultati degli accertamenti delle ultime ore, gli investigatori mantengono il massimo riservo.